John Lennon, in una bella canzone, diceva che la vita è quello che ti capita mentre stai facendo altri progetti. E in effetti, quante cose della vostra vita sono dovute a delle scelte consapevoli e quante sono dovute alla casualità? O ancora, quante volte abbiamo fatto cose che non volevamo fare sperando di raccoglierne i frutti in un futuro indefinito? Se viviamo il presente con l'unico obiettivo di costruire un futuro migliore, beh, secondo me, non abbiamo capito che stiamo affidando le nostre energie a un fantasma. Un fantasma che non sappiamo neanche se un giorno riusciremo a vedere. E c'è un'altra cosa da tenere in considerazione. Con l'idea che esclusivamente dalle nostre scelte dipenda il nostro futuro, la nostra felicità, il nostro senso, anche, ci carichiamo di un'ansia smisurata. E poi soffriamo quando le cose non vanno come le avevamo immaginate. E perdiamo il gusto di farci sorprendere dalla vita. Soltanto quando ammettiamo a noi stessi di non avere il controllo e soltanto quando impareremo ad abbandonarci al momento presente, allora potremo dire di stare davvero vivendo. E in questo momento presente state ascoltando il podcast di Italiano Avanzato, io sono Pietro, insegnante di lingua italiana, che non si fida neanche delle preposizioni, quindi figuriamoci del futuro. E insomma, anche io ci sono cascato e ci casco spesso. A volte quando faccio qualcosa penso inevitabilmente al futuro. Metto le mie azioni in una prospettiva che con tutta probabilità vi suona familiare, cioè faccio qualcosa adesso per ottenere qualcos'altro in futuro. Niente di male, sia chiaro. La programmazione del futuro è una parte importante della nostra vita e della nostra quotidianità. Senza programmazione non si possono raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. E gli obiettivi sono un elemento fondamentale di ciò che siamo e di ciò che vogliamo. Detto questo, non dobbiamo neanche fare finta di vivere in un mondo perfetto e prevedibile, né dobbiamo dimenticare che i nostri successi e i nostri fallimenti non determinano ciò che siamo. Non è il raggiungimento dell'obiettivo la cosa importante, ma il fatto che vogliamo raggiungerlo. I desideri che abbiamo, le curiosità, le passioni, dicono tanto del nostro carattere, molto di più che dei nostri successi, perché i risultati che otteniamo infatti dipendono spesso anche dal caso. O va bene anche dalle amicizie, se prendiamo in considerazione il Parlamento italiano. Ma i desideri, le speranze, le idee, ecco quello che siamo. E il momento presente, ecco l'unica cosa che esiste. Ora, quello che voglio dire, in poche parole, è che non possiamo e non dobbiamo dare al futuro più importanza di quanta ne diamo al presente. Attenzione, lo stesso discorso vale anche per il passato. Quante persone sono bloccate nel passato? Persone che pensano e ripensano agli errori commessi o a come sarebbe andata la loro vita se si fossero comportati in un altro modo. Ovviamente, anche pensare al passato ha una sua utilità. Dagli errori commessi possiamo imparare a comportarci meglio oggi. Per esempio, il passato dovrebbe servire a rendere il nostro presente un posto migliore. O comunque le nostre esperienze dovrebbero insegnarci a capire cosa vogliamo dalla nostra vita oggi. Ma il passato è passato. Non deve distogliere la nostra attenzione e le nostre energie dalle sensazioni, dalle emozioni, dagli eventi del presente. Solo che liberarsi del passato è ancora più difficile che liberarsi del futuro. Perché nel passato abbiamo le nostre radici, abbiamo le nostre certezze. Ecco la fregatura. Mentre il futuro è totalmente incerto, il passato ha il pregio di essere fisso e stabile. Ci dà sicurezza. Perché nessuno dubita dei propri ricordi. Che poi i ricordi siano spesso falsati adesso non ci interessa. Quello che conta è che noi, o molti di noi, noi pensiamo ai nostri ricordi come a qualcosa che è certamente successo. A chi non piacciono le certezze? È nelle certezze che ci rifugiamo quando le cose non vanno per il verso giusto. Ma ecco che le certezze possono diventare una trappola. Adesso vi farò una metafora come Dante. Se immaginate la vita come una bella pizza, le certezze sono grandi fette di ananas sopra. Hanno un bel colore, sono dolci, ma ne coprono il vero sapore. Perciò non rifugiatevi nelle certezze e, ovviamente, non mangiate la pizza con l'ananas. Perché la vita è imprevedibile, come dicevamo. E noi dovremmo imparare a godere di questa imprevedibilità. Anche quando le cose vanno male. Dalle cose che vanno male dobbiamo imparare. Per il resto dobbiamo stare alle regole del gioco e capire che l'imprevedibilità della vita è ciò che rende la vita bella. L'imprevedibilità è sempre stata una preoccupazione per le persone. Questo non si può negare e lo si può capire. Ma oggi, secondo me, viviamo l'imprevedibilità con un carico di ansia e frustrazione e stress mai visto prima. A partire dalla scuola, dove i ragazzi sono sottoposti a pressioni assurde e a una competitività insensata. Ma non voglio parlare oggi dei problemi della scuola. Spostiamoci su un'altra generazione. La mia, per esempio. Molti hanno il terrore di non vedere mai la pensione. Comprensibile, senza dubbio. Ma non sappiamo come sarà il mondo tra un anno. Figuriamoci tra 30, 40, dai. L'esperienza della pandemia non ci ha insegnato nulla. Tutto può cambiare domani. E per concludere con un'altra metafora tratta dalla Divina Commedia, la vita è come il congiuntivo. Irregolare e spesso poco apprezzato. Non va bene così. Viviamo il presente, concentriamoci sul presente e cerchiamo la felicità nel presente, ogni giorno. Non nel passato, né nel futuro, né nella pizza con l'ananas. Avete ascoltato il podcast di Italiano Avanzato? Io sono Pietro. Per sostenere il podcast, commentatelo, consigliatelo o entrate nel club su Patreon. Ma mi raccomando, oggi, non domani. Vi auguro una buona settimana e ciao ciao.